Spunta un nuovo nome ad animare il calciomercato dell'Inter in attacco, si tratta di Marco Arnautovic del Bologna, un nuovo nome perché non è in realtà la prima volta che viene riaccostato all'Inter, riaccostato perché Arnautovic all'Inter è già stato, era molto più giovane, erano gli anni d'oro del triplete di Giuseppe Mourinho e lui faceva parte del pacchetto di attaccanti di allora. Oggi gioca nel Bologna, ha fatto due stagioni, è arrivato nel 2021 quindi ha fatto due stagioni anche abbastanza positive in termini di numeri, qualche ombra però soprattutto dal punto di vista fisico ed ora questa possibilità che il suo agente sembra caldeggiare in maniera particolare di fare un trasferimento ulteriore in una Super Big per contendersi dei titoli importanti. Ne parliamo in questo contenuto, quindi ben ritrovati a tutti, amiche amici, passione, interisti, facciamo un punto molto rapido su Marco Arnautovic perché voglio dirvi due o tre cose sulla questione, non farò un identikit di chi è Arnautovic, magari lo faremo più avanti qualora la trattativa dovesse trovare nuove conferme. Oggi voglio fare un discorso più di, più come idea diciamo così e ragionare su quello che potrebbe essere il reparto offensivo dell'Inter con le quattro punte che al 31 di agosto in un modo o nell'altro l'Inter dovrà avere. Cominciamo subito quindi, mi raccomando, clic sul tasto mi piace e anche sul tasto iscriviti e comincio mostrandovi, per chi ci segue da YouTube, comunque le leggerò, le parole del procuratore di Marco Arnautovic che ieri ha parlato al sito di Gianluca Di Marzio ed è stato anche molto chiaro e diretto perché il procuratore di Arnautovic dice Vorremmo essere ascoltati dal Bologna perché i patti erano stati chiari. La scorsa estate e lo scorso inverno abbiamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League e per rispetto del Bologna non avevamo fatto nulla. Abbiamo ricevuto delle proposte all'inizio di giugno e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte della Top Club avrebbero considerato un'accessione nel caso in cui il desiderio di Marco fosse quello di partire, dice il procuratore. Ora quest'offerta è arrivata e vorremmo che la società capisse l'importanza di questa opportunità per lui. Si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli di vincere dei titoli. Questo è quello che dice il procuratore di Arnautovic, non fa riferimento al campionato di provenienza di quest'offerta, però è chiaro che focalizzandoci sull'Italia e anche sulle squadre che in Italia possono avere un certo interesse verso un attaccante, è evidente che il nome dell'Inter è uno dei primi che ci viene in mente. Col passare delle ore in particolare arrivando a questa mattina chiaramente si sono poi aperte anche le pagine dei quotidiani che a loro volta hanno parlato di Arnautovic e quindi pare che l'Inter in questi giorni abbia fatto una proposta al Bologna. Un Bologna che si era già ritrovato a dover rispondere a delle offerte per Arnautovic, in particolare dalla Roma, aveva fatto muro, aveva dichiarato Arnautovic incedibile e secondo le prime indiscrezioni circolate questa mattina pare che la proposta, la richiesta del Bologna, anche secondo me un po' provocatoria, sia stata quella di 15-20 milioni di euro per cedere Marco Arnautovic. Una cifra, ripeto, obiettivamente esagerata, che però, ritornando diciamo nel recinto della credibilità, non sembra comunque voler scendere sotto i 10 milioni di euro, che comunque sono tanti soldi per un giocatore che è un classe 1989, quindi a 34 anni 10 milioni sono tanti per un giocatore di questa età e che con tutto il rispetto viene dal Bologna. Questa, molto brevemente, è la notizia. Le indiscrezioni di questa mattina parlano invece di una proposta iniziale dell'Inter intorno ai 3-4 milioni di euro, ovviamente rispinta dal Bologna. Ora, apriamo il capitolo riflessioni nell'attesa che eventualmente la trattativa vada avanti e che quindi si possono commentare dei fatti più concreti. La cifra che chiede il Bologna è obiettivamente esagerata, 15-20 neanche li commento, 10 possiamo parlarne, ma secondo me sono comunque troppi soldi, vista l'età appunto di Arnautovic. Ma anche qui mi sembra che la parola chiave del mercato dell'Inter di quest'anno sia equivoco. Sarà che io l'ho utilizzata spesso per Turama, anche nelle scorse ore, ma anche qui secondo me c'è un equivoco da dover risolvere. Io sento parlare di Arnautovic eventualmente come quarta punta al posto di Correa, ma qui ci sono due cose che non mi quadrano. La prima è la cifra, appunto, perché se si ragiona su cifre di quel tipo lì, a differenza per esempio di Sanchez, che era un altro nome che veniva fatto come eventuale sostituto di Correa, o anche dei famosi esuberi dell'Atalanta, che io avevo citato qualche giorno fa, Sapata, Muriel, eccetera, 10 milioni più anche l'ingaggio non sono di certo pochi soldi. Ma soprattutto, ascoltavo anche ieri su Sky gli aggiornamenti di mercato, mi pare se non sbaglio Luca Marchetti diceva che l'idea sarebbe quella di prendere Arnautovic subito, poi sistemare Correa e quindi eventualmente tornare sui vari Balogano, uno dei giocatori che ormai abbiamo nominato 200 volte nel corso di queste settimane. Attenzione, attenzione, perché la cosa fondamentale che l'Inter non deve fare è ragionare dando per scontato di piazzare Correa, perché Correa è tutto tranne che facile da piazzare. Quindi la mia paura nel caso è che se l'Inter dovesse ragionare davvero così, cioè di chiudere Arnautovic in modo tale, intanto da dare un giocatore, peraltro anche fisico e con le caratteristiche che lo stesso Inzaghi chiede, poi eventualmente lavorare per chiudere Correa, la mia paura è che all'1 di settembre tu ti ritrovi con Lautaro, Turam, Arnautovic e Correa, perché Correa non lo piazzi. Questa è la mia paura. La cosa importante è che l'Inter in questo momento ha un bisogno estremo di una terza punta credibile, perché l'Inter ha Lautaro Martinez che ti dà una certa garanzia di gol con la parentesi di quei mesi di magra che purtroppo gli sono capitati ad ogni stagione, però comunque ti porta almeno 20 gol e su questo i numeri lo stanno dicendo. Poi ha un Turam che lo stiamo commentando proprio in questi giorni, anche tanti tifosi sotto i nostri video, le nostre dirette, ci dicevano Turam non tira mai in porta, Turam sta facendo fatica, deve ancora entrare nei movimenti. Io credo che alla fine Turam sarà un giocatore utile per l'Inter e farà anche i suoi gol, però ad oggi non possiamo esserne certi al 100% perché Turam non è Lukaku. Quindi se tu già nei titolari parti con questo piccolo dubbio, questa piccola incertezza, devi avere poi una terza punta che almeno nelle premesse sia un giocatore di livello. Sapete che io votavo e voto tuttora Taremi perché per quanto costi tanto per me è garanzia di gol, ma pure Baloghan potrebbe andare bene perché comunque è un giocatore che è stato monitorato da tanto, molto promettente eccetera, la terza punta deve essere credibile. Marco Arnautovic ha 34 anni e con tutti i problemi fisici che ha avuto negli ultimi due anni, anche qui ve li mostro rapidamente da Transfermarkt, eccoli qua, solo dal 21-22 in poi è stato fuori veramente tanti giorni, la scorsa stagione in particolar modo. Se tu a questi due attaccanti titolari ci aggiungi questo Arnautovic che ha questa età e questi problemi e Correa, che pure lui è uno che non è nuovo a problemi fisici e in più dal punto di vista del rendimento sappiamo bene che razza di giocatore sia, io voglio vedere poi a dire e a parlare di Scudetto, di Seconda Stella. Non so se sarebbe credibile fino in fondo, o quantomeno sarebbe esercizio di grande ottimismo parlare di questo, a maggior ragione poi con una difesa ancora da completare e vedremo come, con una squadra che comunque ha perso tanti leader e tanti giocatori cardine degli ultimi anni, tutti insieme. Quindi, la sintesi qual è? A me Arnautovic come giocatore piace, mi piace perché ha personalità, mi piace perché ha fisico, perché ha grande tecnica, nonostante appunto il fisico molto importante, ma per come vedo io la cosa deve essere chiaro che se l'Inter prende Arnautovic lo prende al posto di Correa e quindi Arnautovic deve far parte di quel novero di calciatori insieme, i nomi li ho fatti prima, Sanchez, Sapata, questi giocatori qui, che tu puoi valutare come eventuale sostituto di Correa ad una cifra molto contenuta. Non si può, per come la vedo io, trattare Arnautovic a delle cifre troppo alte e soprattutto trattarlo come se fosse un nome da terza punta, dicendo quindi, vabbè, poi piazzo Correa e alla fine torno su Baloghan. No, questa cosa per me è estremamente rischiosa perché poi se tu prendi Arnautovic, anche metti pagandolo poco, non è che poi vai a prendere Baloghan, se non piazzo Correa, lo sappiamo tutti, perché gli attaccanti ne hai quattro e ti arriverebbero a dirti non possiamo prendere cinque attaccanti per quattro posti e quindi rimaniamo così. E se tu, ribadisco, rimani con Turam, Lautaro, Arnautovic e Correa, secondo me è un quartetto offensivo che se tutto va a meraviglia può anche funzionare, ma sappiamo che tutto non va mai a meraviglia. E quindi c'è il rischio veramente grosso di avere delle lacune molto importanti in termini offensivi. Questa era la mia sintesi sul tema Arnautovic, spero di essere stato chiaro. Ripeto, se dovessero esserci nuove novità oltre a quelle che vi abbiamo riportato anche all'inizio di questo contenuto, noi siamo sempre qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori notizie. Se dovesse concretizzarsi l'affare, faremo magari anche un identikit specifico su Marco Arnautovic, anche se è un giocatore ormai che gira da un po', però faremo appunto anche questo contenuto. Aspetto adesso i vostri commenti. Sono curioso, sono molto interessato perché è un tema, anche questo, credo abbastanza divisivo. Ho visto tanti fan di Arnautovic negli scorsi mesi anche, ma voglio capire come la pensate voi anche sul discorso terza, quarta punta e pacchetto offensivo preso nel complesso. Quindi vi aspetto nei commenti, vi aspetto se volete anche nel club di Passione Inter, www.passioninter.club, la discussione è già cominciata, l'ho letto prima, qualche messaggio in chat. Vi ricordo ancora, un clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti. Per chi mi segue in podcast trova in descrizione un nuovo approfondimento da recuperare e invece per chi mi segue su YouTube lo può recuperare cliccando qui. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale.